e ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi ragazzi sono tornato innanzitutto perché negli ultimi giorni sono successe varie cose che non mi hanno permesso di registrare perché ho avuto parecchi impegni anche con la scuola con la fine dell'anno eccetera quindi ho avuto vari impegni e non ho avuto il tempo di registrare ma quello di trovare delle idee è sempre ragazzi infatti questa qui è un'idea che mi era venuta in questi ultimi giorni allora vi voglio raccontare l'anno prossimo allora è una cosa strana detta così ma semplicemente vi voglio dire che sarà un 2023 pazzesco perché innanzitutto parte in anticipo perché sul canale ovviamente già è partita la carriera su Formula 1 2022 che domani è il secondo episodio tra l'altro domani uscirà il secondo episodio e si entra in pista e per quello ho creato una specie di spot pubblicitario che avrete questa sera alle 9.30 ovviamente uscirà un youtube shorts un tiktok ovunque su tutti i social quindi vedrete questa piccola pubblicità che è veramente bella penso ovviamente giudicatela e niente quindi ho preparato questa cosa e domani uscirà il secondo episodio di Formula 1 2022 e vabbè poi ovviamente continuerà anche l'anno prossimo quindi Formula 1 2022 e F1 Manager ragazzi inizieremo la carriera con la Ferrari su Twitch su Youtube ma ho intenzione di fare un progetto l'anno prossimo che prende la Formula 1 a 360 gradi quello di creare un team che sia come quello della Formula 1 con gli ingegneri, il team principal quindi proprio prendere la Formula 1 e rifarla ragazzi e per questo già ho tantissime idee ma devo ancora metterle in atto, provarle eccetera ovviamente con il piano editoriale mi sta aiutando tantissimo e mi aiuterà anche in questo perché ovviamente con quello proverò poi, avrete notizie nei prossimi giorni quindi F1 Manager, Motorsport Manager, quindi Motorsport in generale l'avete già visto, ve ne ho parlato, arriverà la carriera anche lì con il mio team ragazzi quindi ok poi altro argomento, tutti i giochi perché come vedessi nel video del piano editoriale ecco, come vedessi in quel video l'argomento principale del piano editoriale e quindi anche del 2023 sono i gameplay aumentarli perché ho visto che a voi vi piacciono e quindi perché no portarli su Youtube non mi è un grandissimo problema assolutamente con la mia Playstation quindi ce l'ho, la utilizzo e niente quindi perché no, ho detto quindi non avendo problemi a portarli vi aumenterò i gameplay quindi più gameplay e meno video di questo genere se non per post GP di Formula 1 video dove vi parlo di queste cose effettivamente di quello che porto eccetera quindi se non sono questi tipo di argomenti argomenti come per esempio non Formula 1 ma notizie generali o anche vlog ci saranno ci saranno ragazzi quindi come quello della quando andai in autodromo quindi fondamentalmente a parte i video speciali o vlog ci saranno solo gameplay ovviamente non ogni giorno non uscirà sempre lo stesso gioco ma un giorno uscirà per esempio Formula 1 un altro giorno uscirà Fall Guys un altro giorno uscirà Bo The Last of Us 2 un altro ancora un altro gioco quindi The Last of Us 2 come GTA come tanti altri giochi ragazzi sono i primi che mi sono venuti in mente per farvi capire che ogni giorno non uscirà lo stesso gioco quindi spezzettati in diversi giorni niente ragazzi quindi questo video era per dirvi questo tante belle notizie anzi scrivetevi nei commenti se avete qualche cosa che magari volete vedere da me o domande o riflessioni eccetera tutto quello che volete vi rispondo ragazzi quindi io vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando iscrivetevi campanellina e ci vediamo domani per un prossimo video ciao quindi domani F1 2022 ciao